Villa Stampa di Soncino, poi Casati, una villa seicentesca, il generale Carlo Stampa di Soncino la comprò nel 1740, venne qui come buon ritiro, come luogo di pensione, di pensionamento, perché era alla fine della carriera di grande generale, plenipotenziario di Maria Teresa d'Austria, addirittura girò tutta l'Europa, abbiamo lettere dal Portogallo, da Malta, e poi si stabilì qui, morì qui nel 1751 e lasciò poi anche delle rendite per opere di carità. È una villa iniziata a costruire nel 1600, poi affrescata, bellissima fresca, poi magari andremo a vedere dietro, come potete vedere c'era un giardino all'italiano, alla francese, con un viale prospettico, ma chiaramente adesso è stato modificato. Ecco, questo era il viale di mezzeria prospettico, che divideva le due parti del giardino alla francese, in fondo c'è un grande cancello in ferro battuto, a giugno molto probabilmente organizzeremo, poi vediamo qualche cosa in occasione del bicentenario della morte di Lord Baino in Grecia nel 1924, e qui magari faremo una mostra, conferenza e lettura. Qui poi metteremo più in luce gli aspetti spirituali di Lord Baino, che aveva una vita laica, ma aveva anche questi aspetti. Infatti lui andò nel monastero di San Lanzaro degli Armeni a Venezia e tradusse addirittura due lettere epistole di San Paolo ai Corinzi. Qui la bacheca, abbiamo Camilo I, stampa di Soccino, la moglie, la madonna di Lorenzo di Credi, all'evole del Biarocchio che era qua, e il marchese di Breme che aveva la villa qui vicino. Grazie a tutti.